ciao e benvenuti io sono luca bove e sono un product expert di google my business e quando cerchiamo un hotel come in questo caso google mostra la scheda google my business con la sua categoria e che sono le stelle ad esempio in questo caso è hotel a quattro stelle ok questo è un altro caso questa è una scheda in google travel che è sempre gestita da google my business e qui abbiamo hotel a tre stelle ora come fa google a calcolare questo valore quando poi noi quando andiamo ad inserire un albergo l'unica opzione che abbiamo è albergo e non albergo a due stelle a tre stelle a quattro stelle eccetera bene google lo fa con un suo algoritmo in cui va a pescare dei dati da diverse fonti ad esempio i partner terzi la ricerca diretta feedback e algoritmo appunto di machine learning che valuta gli attributi il prezzo l'ubicazione i servizi che offre eccetera per cui insomma va a vedere se un hotel è modesto a prezzi bassi oppure se un hotel ha un servizio h24 tutti accessori di lusso eccetera e capita però che ogni tanto questo questo valore questo hotel tre stelle o quest'altro non sia quello corretto anche perché la legislazione varia da paese a paese oppure non sia stato ancora assegnato in questi casi bisogna contattare google tramite il modulo di contatto e spiegare perché è errato quindi dare tutte le giustificazioni e poi google provvederà a correggerlo e fate attenzione che le stelle della categoria dell'hotel è una cosa diversa dalle stelle delle recensioni ok sono diverse qualcuno mi tanto si confonde ma le recensioni quindi le stelline delle recensioni è diverso dalla categoria detto questo e vi saluto alla prossima ciao